Sindaco Leonardo Latini, tra le tante cose che sono successe a Terni, però questa di David Raggi credo ha lasciato il segno un po' su tutti, no? Ha lasciato il segno sotto tanti punti di vista, la tragicità della morte ha colpito tutti, ma devo dire ha lasciato il segno anche perché ha in qualche modo unito una città dietro una tragedia, dietro un dramma. È stato proprio un simbolo di una comunità che sa in qualche modo stringersi solidalmente anche nei momenti in cui sembra che tutto quanto diventi buio. È entrata in quello che è un immaginario, nella storia della nostra città con tutto il suo portato tragico, però questo è un piccolo segno, un piccolo segno che la città comunque è riconoscente per chi comunque ha offerto la propria vita per gli altri come David Raggi e per chi anche nella morte ha costituito un esempio, soprattutto in quello che è stata la condotta e il comportamento poi dei propri familiari a dimostrazione proprio che le città sanno reagire, le comunità sanno reagire, le persone sanno reagire. Intitoliamo proprio a David Raggi questi giardini di via Irma Bandiera. Sì, questo è un onore veramente poterlo fare, questo è un po' il luogo che ha visto David crescere, quindi è un po' un luogo simbolo e poi è un po' un modo anche di ridare uno degli spazi a un quartiere, a una città e quindi ci sono più aspetti che devono essere in qualche modo considerati che fanno sì che oggi sia per fortuna nelle varie giornate di pioggia una giornata di sole. Con l'ultima cosa, Sindaco, ha avuto modo di parlare con la famiglia? Sì, io con i papaci parlo spesso, abbiamo un ottimo rapporto anche con il fratello, la mamma l'ho conosciuta oggi, chiaro. Loro portano i segni indelebili dell'accaduto, ma hanno anche saputo reagire con una forza, un coraggio che solo le persone di profondo spessore, di profondo valore possono mettere in campo nei momenti tristi e drammatici delle vite. Grazie Sindaco.